I bambini non dovrebbero conoscere la malattia, i bambini non dovrebbero entrare nelle corsie degli ospedali e invece il male non risparmia nessuno, neanche loro che sono piccoli angeli in terra e grazie a strutture come queste, il reparto di oncoematologia pediatrica di Lecce, i bimbi che hanno bisogno di cure insieme alle medicine trovano sorrisi e abbracci caldi. Accade però che in questo reparto, in cui tutto è a misura di bimbo, in cui le pareti diventano colorati i paesaggi, in cui invece di sedia rigida in sala d'attesa ci sono comode poltroncine rosse e banchi scuola su cui colorare, i professionisti che si occupano dei piccoli ospiti sono pochi. Troppo pochi per un reparto in cui ci sono bimbi in fasce e ragazzi fino a 18 anni, che arrivano non solo da tutto il Salento, ma anche dalla Calabria e dall'Abruzzo. Al momento ci sono otto ricoveri e tantissimi trattamenti in dei hospital, un lavoro durissimo. Il reparto dovrebbe avere un direttore e sei dirigenti medici e invece i bambini possono contare solo su un direttore e tre medici, dei quali solo uno a tempo indeterminato. Le mamme per difendere i propri cuccioli, si sa, anche nel dolore diventano forti, fortissime. Ha avuto un eco nazionale il fatto che i coraggiosi genitori dei bimbi di questo reparto stiano finanziando due medici esterni che possano supportare il personale. Le risposte politiche a quello che è un vero e proprio scandalo dovrà darle l'assessore regionale Tommaso Fiore. Nel frattempo i genitori fanno da sé. La situazione del reparto è quella grossomodo descritta, cioè di una carenza permanente da anni, dal 2008 ad oggi, da quando è stato istituito il reparto di personale medico, sia nelle figure dei dirigenti, sia nelle figure del primario, che connota questo reparto da sempre, con gravi difficoltà anche in ordine al funzionamento del reparto, perché ovviamente la carenza di personale costringe i medici che sono in servizio ad operare con turni che sono fuori dall'ordinario, a dire poco. Noi sappiamo per averlo vissuto direttamente dall'interno del reparto la situazione di grande sacrificio dei medici che continuamente ricoprono turni massacranti e con uno spirito di dedizione che noi francamente non riusciamo a trovare in altre persone se non in quelle che lavorano qui, fuori dall'ordinario, fuori dal comune. Ci sono due medici e il primario. È una dottoressa pediatra con contratto a scadenza. L'AGOP è l'Associazione Genitori di Oncoematologia Pediatrica, un organismo che di fatto si autofinanzia e allora serve il contributo di tutti, almeno finché l'ITER, che partirà da Roma per dare il via ai nuovi concorsi, non sarà espletato. L'Associazione di Genitori, come costituita da noi genitori e tutti quei benefattori che intendono essere vicini alle patologie di questi bambini, di questi ragazzi, continua a dare il suo contributo in questo modo. I bimbi hanno bisogno di tutti noi. Per dare un contributo ci si può rivolgere all'AGOP che ha sede nello stesso reparto.